Ben ritrovati e ben ritrovati su InGenereHorror, io sono sempre Greg, so che a molti di voi piacciono i video unboxing e quindi video dedicato ad una novità di questi giorni, l'uscita Midnight Factory del film Christmas Bloody Christmas. Questa è la limited edition Blu-ray che ho ricevuto, che mi è stata mandata dalla Midnight Factory, Christmas Bloody Christmas è il film diretto da Joe Bigos, già regista, c'è scritto anche qui, quello che potete vedere, già regista di Bliss, del film Christmas Bloody Christmas. Ho già parlato sul mio canale perché l'uscita, un video è stata anticipata di un paio di settimane da quella invece su piattaforma streaming su Midnight Factory Channel, quindi probabilmente l'avete già vista lì, o comunque potete già acquistare la versione limited edition Blu-ray davvero in collezione perché questa va assolutamente tenuta in collezione, nella vostra collezione. Tra l'altro appunto Joe Bigos è già regista di Bliss, se Bliss non l'avete visto anche questo lo potete recuperare su piattaforma streaming Midnight Factory Channel, vi fate già un'idea a livello cronologico prima di guardare questo, cronologico perché viene prima Bliss, di che cosa, quale sia un po' il gusto registrico, che tipo di registra sia. Joe Bigos è un registro molto interessante, indipendente fino all'osso perché ha questa caratteristica, ha la fortuna perlomeno di lavorare con produzioni che un minimo di budget glielo danno, gli consentono, anche con questo ha avuto la possibilità di lavorare liberamente, di riproporre quello che è un film indipendente, sì libero dagli schemi certo, ma con un budget di un paio di milioni di dollari che in Italia ci sogniamo, in America con queste cifre si può lavorare, lavorare bene, poi chiaro il talento del regista fa il resto e di tutti i tecnici che ha attorno, dal montaggio alle musiche, alla fotografia e tutto quanto, perché poi il film riesce ed è convincente in tutto e per tutto. È la storia brevemente di un Babbo Natale robot, doveva essere inizialmente un robot dedicato a, o comunque prodotto dall'esercito per scopi militari, per difetti vari, si è avuta la bella pensata di riconvertirlo a gioco per bambini. Ovviamente il Babbo Natale comincerà a prendere coscienza da killer e farà fuori tutti quanti. Il far fuori tutti quanti non è una frase tanto buttata lì, perché poi vedrete la mattanza di questo film spietato, come è spietato il Babbo Natale in questione, che sembra più un Terminator, non dico Terminator a caso, insomma tutto da godere, tutto da vedere, perché questo film è uno spasso per gli amanti, non solo dell'horror natalizio, diciamo, ma comunque per quell'horror che poi riprende un po' il gusto anni Ottanta, non in maniera per forza nostalgica. Qui il registra si diverte, ci diverte, a gusto, a gusto, fino dalla partenza, dalla concezione iniziale, concepimento proprio iniziale del film, cioè farlo in pellicola, utilizzare la pellicola ai colori sgranati, utilizzare poi quello che è un suo gusto per la messa in scena e poi virare verso quei colori che intravedete da qui, quei colori al neon, quelle che già in altri film, tipo Bliss ad esempio, già potevate e avete potuto vedere. È un regista che sa giocare con l'horror in questo modo e per fortuna fa ancora ed è ancora in produzioni indipendenti, ma parliamo anche ovviamente, vi faccio nel frattempo finché parlo, altrimenti poi mi dite che sono prolisso, vi parlo dell'edizione, ve la faccio vedere intanto, questo è il retro della copertina cartonata esterna, qui c'è la costina con il titolo, con il faccione del nostro babbo natale, e diciamo per fortuna Joe Bigos lavora ancora in ambito, in produzioni indipendenti, perché in questo modo è libero di esprimersi. Inizialmente questo film doveva essere un remake, il remake della, questa parte interna ovviamente dell'edizione, con altre sottocopertine qui, doveva essere il remake di Silent Night, Deadly Night, che è uno dei film preferiti, se non il preferito di Joe Bigos. Poi la produzione ha visto che stava andando per la sua strada, a livello di scrittura il regista andava un po' per la sua strada, si è tirata indietro, io dico io per fortuna, perché poi è arrivata un'altra di produzione indipendente, che gli ha dato il doppio, ha dato 2 milioni, per poi girare Christmas, per la di Christmas, che è venuto fuori, ed è venuto fuori questo cult, irriverente, un film fuori dalle righe, un film pazzo, folle, folle, come artisticamente è questo regista, che magari è poco conosciuto, ma perché lavora sempre in ambito di produzioni indipendenti, ma dico io, almeno è una fortuna questa, perché finché il budget sorregge, regge, quelle che sono le sue intenzioni artistiche, è meglio che lavori sotto traccia, diciamo, sotto traccia tra virgolette, lavori in produzioni indipendenti. Tanto la distribuzione c'è e come, questo è l'interno dell'edizione con il disco, con il 2-ray e il mancabile libretto, che adesso daremo una sbirciatina, e quindi a partire da quello che doveva essere un remake, ne è nato un film che secondo me poi prende una strada tutta sua, diventa un cult, si ritaglia, e si ritaglierà uno spazio anche negli anni successivi, e quando poi, nei Natali prossimi, andrete e andremo a vedere i classici film di meditazione natalizia a tema horror, diciamo, o meglio, horror, tema natalizio, oltre a recuperare i classici anni 70 e anni 80, per carità, sempre da recuperare, sempre da rivedere, perché ci sono di grandi titoli, secondo me, Christmas by Christmas avrà e si ritaglierà anche un piccolo spazio, perché è una novità, perché comunque di novità ce n'è, nel senso che è una riproposizione di qualcosa di visto, certo, ma in chiave diversa, con una messa in scena decisamente interessante, tanto per andare nel dettaglio, c'è una scelta di montaggio narrativa senza interruzione, non c'è un'interruzione, non ci sono salti temporali, ma c'è un montaggio che come lì la narrativa segue temporalmente, in tempo reale sostanzialmente, quello che succede ai nostri protagonisti, e viviamo quello che i protagonisti vivono fin dall'inizio, o meglio, viene descritto tra l'altro, vengono descritti questi protagonisti che sono sempre, in questi film c'è il rischio, che siano sempre piatti monodimensionali. Il film dura un'ora e mezza scarsa, in questa ora e mezza scarsa si riesce a caratterizzare i protagonisti, i personaggi tutti, per quel poco che rimangono in scena, perché poi qua la mattanza è assicurata, e si riesce, grazie ai dialoghi serrati, è un ritmo serrato, un certo tipo di montaggio, si riesce ad avere una caratterizzazione dei personaggi che secondo me è una cosa notevole, notevole perché tanti film non riescono ad avere. Quindi per quanto possa essere una piccola produzione e un piccolo horror a livello produttivo, questo alla grande supera ben altri tentativi ad alto budget, intanto vi faccio vedere alcune scene dal film, ad alto budget che invece hanno i soliti personaggi stereotipati, le solite situazioni stereotipate. Qui la storia è semplice, c'è questo killer Babbo Natale e robot che fa fuori tutti, punto. Ma è questo il bello, è un horror puro, dritto per dritto, che diverte, che intrattiene. Questo qui è il nostro Babbo Natale, è bello insanguinato, indovinate perché è coperto di sangue. Vi avevo fatto vedere queste immagini perché appunto il discorso della scelta del gusto, del colore, di questa pellicola utilizzata nel girare il film, e questa atmosfera e questi colori sgranati, che poi diventano e si trasformano anche ed evolvono verso delle luci quasi al neon. Eccolo qua, le tipiche luci utilizzate da questo regista. Lo intravedete anche, potete vedere anche da questo sguardo, queste luci al posto degli occhi del Babbo Natale, del Babbo Natale robot. È un regista secondo me molto interessante. Il film lo è, gusto mio e a parere mio è già un piccolo cult. Ditemi nei commenti cosa ne pensate. Questa è l'edizione che potete trovare, potete già acquistare, della Midnight Factory, la limited edition in Blu-ray. Ditemi se ce l'avete già o se avete già visto il film. Possiamo commentare come sempre. Io resto, il mio giudizio, anzi, secondo me diventerà sempre più positivo perché questo film qui, anche rivedendolo, si potrebbero vedere dei dettagli, delle situazioni molto curate, molto ben dettagliate da parte di Joe Bicos, che è un regista che ci sa fare con il cinema. Questo è tutto. Questa è l'edizione Midnight Factory. Commentate come al solito e alla prossima.